Dopo lunghi studi e approfonditi test, Shimano è orgogliosa di presentarvi la nuova serie e di canne bolognesi top di gamma. Parliamo delle nuove Aspire. Un concentrato di leggerezza, sensibilità, resistenza, potenza ma soprattutto rigidità. Doti che non possono mancare di certo a questo nuovo top di gamma. Una canna completa, una canna poliedrica in grado di essere utilizzata sia in freshwater che in saltwater. I nostri colleghi giapponesi hanno impiegato le migliori tecnologie di Shimano e hanno inserito in questa canna lo Spiral X-Core e l'iPower X. Per la costruzione del vettino è stato adoperato l'iPower X. Per quanto riguarda invece la costruzione del fusto, è stata adoperata la tecnologia Spiral X-Core. Un laminato in 5 strati che ha reso la canna altamente resistente, è in grado di gestire tutte quelle che sono le ovalizzazioni e le flessioni longitudinali del grezzo e addirittura è stato implementato nello sviluppo dei joint proprio per cercare di gestire tutte queste altissime pressioni all'interno della canna. Insieme formano un oggetto unico, sorprendente, in grado di poter essere utilizzato sia in acqua dolce che in mare. Per venire incontro alle molteplici esigenze dei pescatori italiani, Shimano ha deciso di sviluppare questa canna in due misure, 6 metri e 7 metri, in azione M e in azione H, bene venduta, nuda, in modo da darvi la possibilità di sbizzarrirvi secondo le vostre scelte nei vari montaggi. E' stata fatta anche grande attenzione al look della canna, rendendola quindi scura, elegante, con particolari accesi in rosso. La canna è stata testata in tantissime condizioni di pesca, sia freshwater che saltwater. Siamo certi che non deluderà le vostre aspettative e vi accompagnerà in ogni vostra avventura. Grazie a tutti!